amici di milan punto soccer eccoci un nuovo appuntamento dedicato all'informazione rosso nera allora ci sono altre buone notizie quindi diciamo che l'effetto europa league l'effetto roma se ancora non è sufficientemente digerito però sta portando diciamo così qualche rasserenamento prima di cominciare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale di mettere però un like a questo video un bel mi piace un pollicione e se vi va attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati allora ho pensato molto a che titolo fare poi mi è venuta in mente un'idea che ora vi racconterò però lasciatemi dire che ogni ogni tanto una occhiata la gazzetta dello sport la data anche voi molti mi scrivono ma chi ancora legge la gazzetta chi ancora legge la gazzetta anche molti di voi leggono la gazzetta io per contrastarla per cui mi metto sempre questa tuta quando parlo della gazzetta dello sport perché adesso che l'ha detto la gazzetta che pioli è stato mandato via detto da noi anche più di 24 ore prima e molti commenti hanno detto fuori le prove che faccio l'investigatore privato e c'è il segreto c'è il segreto però adesso lo dice la gazzetta quindi tutto a posto va bene ci vuole tempo ci vuole tempo prima di prendere la credibilità della gazzetta dello sport scherzo ovviamente il milan quindi ha deciso via e via pioli e adesso inizia il toto panchina allora facciamo subito chiarezza anche su toto panchina il fatto è che ci sono due priorità la prima la conosciamo bene la priorità del club è spendere poco la seconda è invece una priorità che non è del club ma di chi con il club in qualche modo beh la gazzetta dello sport altri organi di stampa si ha a che fare diciamo così e infatti inizia il totonomi io la questione la conosco e la questione è molto chiara ci sono delle priorità ma dipende dal budget che viene messo a disposizione da parte del club comunque il processo come dice appunto il noto giornale a stefano pioli stavolta non si farà è arrivato il tempo delle sentenze ecco mi fa piacere che venga usato il prula il plurale perché a fine stagione a meno che il milan non vinca che so contro abbiamo giocato già contro la salernitana allora perché poi il milan è bravo a far sembrare d'oro cosa che invece solamente gialla a proposito tre settimane fa all'incirca scaroni ibraimovic e non solo loro dicevano che pioli era saldo che non sarebbe mai andato via e noi youtuber uso il plurale dicevamo guardate che non è così e tutti contro e ma l'ha detto scaroni la tecnica di questi signori è sempre la stessa quindi ascoltate i tifosi e non gente interessata alla vendita di carta in questo caso infatti il problema è che le sentenze giusto plurale le sentenze sono che ora a pagare non dovrà essere solo di esclusivamente pioli ma tutti quelli che hanno costruito una squadra perdente e che non ha vinto nulla e che è stata fuori è stata fatta fuori dalla champions league della coppa italia dall'europa league dallo scudetto arrivando seconda dietro alla rivale storica quindi peggio di così ditemi voi dove ci possiamo appigliare per dire che è una buona stagione quindi un progetto perdente in questo caso forse non abbiamo valutato bene quali erano le priorità perché sicuramente la partita di roma dell'altra sera era la partita dell'anno ma evidentemente non lo si è ben compreso non lo si è fatto passare come tale quindi fuori anche furlani in questo momento è più un auspicio però se come e quando fu fatto fuori paolo le condizioni in questo momento sono peggiorate è chiaro che furlani al di là ha delle battute uomo eliot a me non mi interessa niente io non lo so a me interessa che l'amministratore delegato ha fatto un progetto fallimentare quindi deve andare a casa io personalmente non sono così trashan ma siccome un uomo come paolo che ha fatto di più è stato mandato a casa perché non ha raggiunto risultati e gioco forza che se non è una questione personale dunque anche furlani moncada debbono andarsene a casa e allora c'è una tentazione di cui abbiamo parlato qualche giorno fa e che ibra sottotraccia ma è una mia sensazione non ho informazioni e non ho null'altro e che ibra sottotraccia stia pensando al ritorno di maldini il rapporto con gerry cardinale è un rapporto importante di amicizia anche se a questi livelli l'amicizia non conta però qualche ideuccia in tal senso io non la escluderei e poi c'è il toto toto allenatori i dirigenti ora dice la gazzetta si sono mossi già nei mesi scorsi ma allora allora perché continuavate a scrivere non rischia per prendere informazioni sui candidati allora julien l'opetegui oggi fermo dopo l'esperienza al wolverhampton paolo fonseca ex roma ora a lille e poi ci sono stati dialoghi telefonici e non solo sia con loro due che con altri quali christophe galtier oggi al al dubai nel catar dopo l'esperienza al paris saint germain e marcello gaillardo mito del re del river ora la litiad in arabia sono molto apprezzati i quattro candidati due più degli altri restano nella testa di giorgio furlari e goffri moncada che hanno guidato la scelta del milan nell'ultimo anno e sono ancora uomini ancora uomini di riferimento ibraimovic però alla fiducia totale di cardinale e la decisione finale passerà da lui detto questo ora non vi preoccupate troppo sui nomi debbono vendere copie quindi fanno nomi ci fanno litigare tra di noi è sempre lo stesso gioco quello dei giornali buttano nomi ora al al tiad e poi al dubai così entrano gli arabi fanno una confusione terribile la certezza è che pioli se ne andrà la certezza è che ibraimovic vuole anche lavorare senza fastidio e sicuramente invece la richiesta che non conta ma l'auspicio mio è che a pagare come fu paolo siano anche furlani e moncada e ci metto dentro anche dottavio che non guasta ora andremo a vedere nei prossimi giorni nelle prossime ore perché ancora in testa c'è conte quale sarà l'allenatore del milan prima però andiamo a capire qual è il budget a disposizione di ibra per poter fare questa rivoluzione a dopo ciao